Attuare una strategia per ripensare al nuovo volto della città fra dieci anni è stato questo l'obiettivo del convegno che si è tenuto oggi pomeriggio per ragionare sul futuro di Fano anche in vista della pianificazione del nuovo PRG. Affinché le nostre idee siano il più efficaci possibile, ha spiegato il vice sindaco e assessore all'urbanistica Cristian Fanesi, abbiamo organizzato insieme alla Regione Marche questo momento di riflessione così da coinvolgere tutti gli interlocutori e il mondo professionale attraverso un dialogo aperto e partecipativo. Il sindaco nella conferenza stampa di fine anno ha detto che questo sarà l'anno del piano regolatore, effettivamente il lavoro fatto dal team che abbiamo incaricato, coordinato dal professor Stanghellini, ha prodotto già una prima bozza che ovviamente rappresenta uno step di partenza per il confronto con una serie di stakeholders, come si usa dire, ma comunque di portatori di interessi in generale che possono essere sia i cittadini che gli imprenditori più importanti, ma anche gli ordini professionali, gli architetti, gli ingegneri, i geologi, i periti eccetera, cioè tutti coloro i quali possono dare dal punto di vista tecnico una mano al comune, un contributo in maniera tale che vengono perseguiti gli obiettivi dell'amministrazione comunale, quindi quello di rendere più bella la città pubblica, ma nello stesso tempo si possono realizzare anche i sogni, gli investimenti di cittadini e imprenditori che vogliono migliorare la loro situazione abitativa oppure agevolare un investimento lavorativo. Oggi all'incontro era presente anche l'assessore delle Marche all'Urbanistica Stefano Guzzi, che cosa vi attendete dalla legge regionale? Certamente oggi un confronto importante sulla legge urbanistica regionale, che anche questa da tanto tempo, anzi da oltre 30 anni, è ferma, è uguale, è la stessa, quindi da una parte probabilmente ha funzionato bene, dall'altra serve una rigenerazione anche della legge urbanistica, in quanto deve, è questo che noi ci aspettiamo, inserire strumenti di flessibilità. Questo, ha proseguito Fanesi, significa che una volta individuate le aree di trasformazione della città, bisogna dare gli strumenti all'amministrazione comunale, alle imprese e ai cittadini, con una certa flessibilità per andare incontro alle esigenze del mercato e finanziare così l'investimento. Una legge urbanistica che non si occupi più degli edifici, ma si occupi dei quartieri, anche quelli saturi, quelli già costruiti. Bisogna pensare, sì certo, all'edificio, sostituirlo dal punto di vista edilizio, ma bisogna pensare anche agli standard che intorno a questo edificio ruotano, come il verde pubblico, i parcheggi e la viabilità. Ma come vede lei la Fano del futuro? La Fano del futuro, io vedo Fano una comunità coesa, una comunità aperta, disponibile al confronto, che abbatta tutti i muri, ma una comunità in cui le persone, attraverso un patto, un patto sociale, possano costruire, dal punto di vista urbanistico, una città che migliori due o tre aspetti. Il primo è la qualità dell'abitare. In alcuni casi la qualità dell'abitare è fondamentale, soprattutto adesso in un periodo di Covid, dove si usano anche di più le case. Ma dall'altra parte crei degli spazi pubblici adeguati. Io mi immagino una città, come è stata immaginata tantissimo tempo fa, policentrica, dove ogni piccolo quartiere possa avere la scuola, una community hub dove la gente si incontra, parcheggi sufficienti, è verde pubblico soprattutto per poter stare insieme e possa tutto sommato anche avere un piccolo sistema di relazioni anche commerciali, quindi con piccoli negozi di vicinato, in maniera tale che la vivibilità di questi quartieri possa aumentare, possa essere piacevole, uscire, stare insieme e anche viverci e andare a lavorare.